. 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 e abbiamo una considerazione total per aiutare a portare il nostro fottobolo alla ruba e ancora, abbiamo molto di più di venire. A presto di venire a organizzare un corso che ti dice IVIIR con il Monterra. Quanto gente a partecipare? Cosa mi vuoi dire? Sì, grazie. Tu hai detto una cosa positiva per noi, per il più di entrambi che conosci e che sia la visione di cui noi vogliamo, per portare il nostro fottobolo. Il nostro plan per il futuro è che a tutti i nostri fottoboli e a tutti i nostri fottoboli, e a tutti i nostri fottoboli, e a tutti i nostri fottoboli, e a tutti i nostri fottoboli. E quindi, l'intenzione tra di questo fottobolo, è il nostro lavoro solo per tutti i nostri fottoboli, e anche i nostri fottoboli, che non ci sono stati a fare un altro livello di fottobolo. Ma questo è il nostro lavoro di KMVB? Sì, sicuramente, senza il nostro lavoro di KMVB, non ci sono stati a fare un altro livello di cui ci sono, ma non ci sono stati a fare un altro livello di cui ci sono stati a fare un altro livello di cui ci sono stati. lo máximo che potete ottenere? Di verità, Claret, è stato disposto di fare questa battaglia del fútbol, però non so che un leo mi proiettivo a base di SEPA, perché le exigenze sono più alti, per quanto riguarda un battaglia del fútbol, però è noto qui, da cui mi lo carri un giorno per applicare la battaglia del fútbol di Golanco. E in un momento, magari in Rosia che manda? Sì, è stato sicuro, non mi chiedere che è stato un sogno di G, e non pensare per G per me, però oggi mi chiedere che sia una realtà. Grazie a tutti per noi. In questa seconda parte, noi stiamo con il nostro intervistato, il presidente dell'Urbanza del Fútbol del Mond, con il signor Richard Deichov. Su tras, noi stiamo con il direttore di World Coaches di Canver Bay, con il signor Johann Fahein, che è andato in Aruba, un pari dia, per visitare l'Urbanza del Fútbol del Mond. L'argomento di Piazza, per noi si intervistano qui. Richard, come sta bene con l'Urbanza del Fútbol del Mond? Buon, come Presidente dell'Urbanza del Fútbol del Mond, mi chiedere con il nostro hobby, contento e orgulloso, che per me viaja, un arubiano, da l'argomento, da l'argomento, da l'argomento, da l'argomento, di un coordinatore. Il nostro provato è un l'argomento nel libro sempre dove partirei di un attore di un'argomento, di un attore di carruzione. L'argomento di Cianpe Bè, L'argomento di Cianpe Bè, L'argomento di Cianpe Bè, L'argomento di Cianpe Bè, è una storica clana che ha fatto. Ora, ora mi guarda qua, e senza dubbio, c'è il caso di qui. Siamo vivi con l'AVB, con l'AVB e con l'AVB, se è possibile finanziariamente, per fare parte del discurso qui. Quindi, per noi, è qualcosa di grande. È un'aiuto da Hopi, ora cominciamo a proiettarlo. Sì, corretto. Sei che ho intenzione, no? E anche se ci sono condizioni che ci sono stati, che nel momento in cui è stato ottenuto il diploma. In questo anno, ci sono stati direttori dell'AVB e sono stati di l'AVB. Quindi, ora, è tutto il lavoro. E ora, è tutto il contenuto di lavoro. Che cosa facciamo, ora, exattamente? Ora, ora, ci sono stati un planning per l'AVB in 2016. Una volta che ci sono stati, che ci sono stati di rinforzare, e ci sono stati di rinforzare e ci sono stati di rinforzare con l'AVB. E ora, ci sono stati di rinforzare. che ci sono stati di rinforzare. Ma di questa fase, mi sono stati di rinforzare. e in paliluna di infunzione, è un reto, è un reto che mi ha tommo nel comienzo, con il comitato 30, non c'è un mondo facile, non c'è un obstacolo, e la cosa che mi ha tommo, non c'è un motivo per me tirare la serbata in un ring. E la cosa che mi ha tommo, non c'è un hobby grande e buonissimo, ma non c'è un progetto con il team, con l'arubo di l'arubo, perché non c'è un focus per il futuro. La cosa che mi ha tommo durante i ultimi due anni, il KVB non è arrivato da l'arubo a l'arubo, ma è arrivato da l'inversione, ma è arrivato da l'arubo per me portare l'arubo e la relazione tra i diversi partenari, e noi non c'è un punto che mi ha tommo durante i l'arubo, e noi non c'è un progetto con il l'arubo per il l'arubo, perché non c'è un progetto con l'arubo, ma è arrivato da l'arubo, ma è arrivato da l'arubo. e un seminario che ho avuto l'arubo per l'arubo. Come was il risultato di questo seminario? Il risultato è stato molto molto semplice, è stato molto semplice, ed il risultato da l'arubo per l'arubo per l'arubo, ed il risultato da l'arubo per l'arubo per l'arubo per l'arubo. Il risultato da l'arubo per l'arubo per l'arubo? Il risultato da l'arubo per l'arubo per l'arubo per l'arubo. Per l'arubo per l'arubo per l'arubo. Il risultato da l'arubo per l'arubo per l'arubo cosa? Il risultato da l'arubo per l'arubo per l'arubo. Il risultato da la sclutazione di Fusie Club National Washington, dove abbiamo reso un risultato di problemi che altre sclutti sull'arubo per l'arubo, con lo che si mette una sclutazione di Fusie, ci prendono con il risultato di Fusie, che ci sono ancora più fusi che ci sono ancora di scoperta per farlo di raggiungere le raggiungere i raggiungere i raggiungere. E al questo che è successo in Borova, avete una grande faccia in questo senso? Non è passato per il ruolo, ma un paio anni fa, è stato un po' anni fa. Io sono arrivato al 2003, e sono venuto da KMVB, che l'isola in l'organizzazione del fútbol fa stagghi e che il tutto l'isola vuole queste stagghi con la scuola e la scuola questo è molto importante per l'isola questo è stato un programma che abbiamo avuto in Milano ci sono stati diversi personaggi e anche il nostro progetto per aver visto tanto Happy Albertus con Richard Dejkhoff che è dei tei nuovi del nostro fútbol e Richard Dejkhoff che è il presidente del Romance Football Bond